Segui La Sette anche su Instagram, La Sette ovunque con te. Trottolino amoroso, era così? Era così a Medeo Minghi? A te tocca questo, l'ex sindaco di Roma Gianni Alemano sconterà la sua condanna per traffico di influenze illecite ai servizi sociali presso il villaggio Solidarietà e Speranza di Suor Paola. Tutti ricordiamo la Suor Paola di quelli che è il calcio. Ecco, se fossi col suo posto da romanista, accetteresti di essere rieducato da una laziale? Assolutamente no. Ma potete mettere la foto di prima? Quello è Alemano, con la sinistra, no? Io Alemano l'ho bocciato già decenni fa. Quindi per me la bocciatura sul ripetente è fondamentale.